Buongiorno, rieccoci con la rubrica mensile dove tengo traccia di tutti i miei investimenti passati e dei miei piani e progetti futuri. Come sempre condivido tutte queste informazioni per avere una discussione costruttiva con voi, quindi qui sotto nei commenti lasciatemi tutti i vostri feedback. E ragazzi, buon anno! Questo è il primo video che registro nel 2022 e in questo momento mi trovo a Lavarone, come vedete con sfondo rustico trentino. Per rilassare e ricaricare le batterie, la montagna non è uguali. Comunque, per chi fosse alla prima puntata di questa rubrica, io riordino i miei investimenti raggruppati per tipo e poi li snocciolo in ordine di peso. Da quello dove ho investito meno capitale a quello dove ho investito di più. Per poi fare un commento e concludere con tutti i progetti futuri più un paio di sorprese. Perciò questo mese, alla fine di quest'anno, in ordine abbiamo peer-to-peer lending, mercato cripto e mercati finanziari. E come avrete notato, se seguite questa rubrica, dopo il crollo di bitcoin e l'ingrandirsi dei miei piani di accumulo, la parte di portafoglio sui mercati finanziari hanno superato il mondo cripto. Ma ora, con calma, vediamo il tutto. Ah, come sempre, ultima cosa prima di iniziare, vi ricordo che non sono un consulente finanziario. Quindi, prima di fare ogni spostamento, fate le vostre opportune considerazioni. Io vi voglio condividere la mia esperienza nella speranza che possiate trovare informazioni utili. Ed in questo video cerco di andare molto spedito, ma se volete approfondire ogni argomento, qui sotto in descrizione potete trovare una montagna di risorse. E per molti servizi che menzionerò, trovate anche dei link bonus di accesso. Quindi, andate sempre a dare un occhio in descrizione. Ora, come vi dicevo, la prima tipologia di investimenti, quella dove ho meno capitale, sono le piattaforme di peer-to-peer lending. Per spiegarle semplicemente, qui si vanno a fare prestiti a persone o aziende e si ottiene un tasso di interesse. La prima piattaforma nella quale investo si chiama Bondora. In questa piattaforma ho questo capitale e nell'ultimo mese ho guadagnato 38,26€ di interessi. La seconda piattaforma nella quale investo si chiama Cryptalia. Qui si va a fare peer-to-peer lending per progetti di piccole e medie imprese. Ho questo capitale e nell'ultimo mese ho guadagnato 19,58€ di interessi. Tra l'altro, per chi fosse interessato a Cryptalia, proprio da pochissimo ho pubblicato una video recensione su di loro. Poi, come vi dicevo lo scorso mese, questo mese avrei e ho prelevato i soldi che avevo depositato su un'altra piattaforma di peer-to-peer lending, Rendimento Etico. E per riassumere, lo scorso mese dal peer-to-peer lending ho guadagnato in totale 57,84€ di interessi. Ed in questo momento il peer-to-peer lending pesa per un 4,1% del mio portafoglio investito. E rispetto all'ultimo mese ha guadagnato circa mezzo punto percentuale. Ma il mio piano, nell'arco di quest'anno, è di portarlo circa al 7%. Ora passiamo alla seconda tipologia di investimento in ordine di peso, il mondo cripto, che dopo il crollo di Bitcoin ha perso più di 14 punti percentuali come peso all'interno del mio portafoglio. Ma nonostante ciò, sono ancora bullish ed investito. Perciò partiamo con un riepilogo delle mie posizioni in cripto. Qui ora le più piccole sono in piattaforme Sefy, dove rispetto ad una volta, ora ho veramente poco. Su Nexo ho lasciato i vari Nexo che avevo guadagnato come interesse, circa 825 dollari. Su Celsius ho ancora dei Bitcoin più il loro token Celsius che tuttora guadagnano dell'interesse pagato in token. Mentre su BlockFi ho questo capitale principalmente in Bitcoin che anche qui guadagna dell'interesse. Comunque queste piattaforme offrono un interesse annuo sul deposito di cripto o stable. E se andate a vedere i miei vecchi aggiornamenti, qui avevo molto più capitale quando il mercato cripto era incerto, in modo tale da avere comunque una rendita. In ogni caso, se volete approfondire o provare queste piattaforme, vi lascio tutti i link con anche dei bonus in vita un amico qui sotto in descrizione. Ora, prima di passare al mio portafoglio cripto, voglio dirvi che se volete approcciarvi al mondo delle criptovalute, la prima cosa che vi consiglio di fare è andarvi ad informare sull'argomento sicurezza. Quindi come è meglio acquistare le proprie cripto e soprattutto come è meglio detenere e custodire le proprie cripto. Io ci ho fatto diversi video e penso che questa sia la prima cosa da affrontare. Ed ora, eccoci al momento che tutti stavate aspettando. Questo, e lo vedete con calma scorrere, è il mio portafoglio cripto. Come noterete, sono investito quasi completamente su altcoin. Le poche posizioni su bitcoin e ethereum le avete viste depositate sulle piattaforme se fai di prima. Mi trovo così perché negli ultimi mesi ci sono stati ottimi salti su progetti interessantissimi. Quindi ho deciso di iniziare a mediarli a ribasso, perché penso che ci sia ancora parecchio spazio per una forte risalita delle alt. Qui però ci tengo a precisare e appuntare che se anche questa cosa non dovesse accadere, io sono già in forte profitto su questi progetti. E come avete visto, attualmente il mio portafoglio conta più di 30 progetti. Perché cerco di diversificare e abbassare il rischio anche in questo modo. Ed oltretutto sono più che disposto a perdere tutti i soldi qui investiti. Questo ve lo dico perché avete appena visto un portafoglio rischiosissimo e fortemente speculativo. Cosa che non è per nulla semplice da gestire, quindi evitate di copiarlo. Perché agli inizi vi consiglio prima di tutto, come detto prima, di informarvi. E se proprio scalpitate ad iniziare ad aggiungere bitcoin al vostro portafoglio, date un occhio a questo video dove spiego quella che secondo me è la migliore strategia per iniziare ad investire in crypto e bitcoin. Io prima di tutto e prima di fare danni partirei da lì. Comunque per chi fosse interessato, questo portafoglio lo detengo in parte su exchange centralizzati. Sto iniziando ad usare sempre di più Binance perché è fantastico. Vi consiglio di provarlo se già non l'avete fatto. E qui sotto trovate il mio link Invita un Amico con uno sconto sulle fees. E tra l'altro da pochissimo ho fatto una recensione su Binance. Poi una parte è su Crypto.com, idem, anche di Crypto.com qui sotto in descrizione trovate un link bonus. Un'altra parte è su Gate.io, un exchange che uso principalmente per le altcoin small cap e anche di questo dovrei avere un link bonus. E l'ultima parte è su Coinbase Pro che tutti conoscete immagino. Dopo oltre a questi un'altra parte è su alcuni wallet. Ora tirando le somme la parte crypto rappresenta il 44,9% del mio portafoglio investito. E come detto prima con il crollo di bitcoin è in contrazione di più di 14 punti percentuali che sono stati presi dalla porzione che ora è la più grande del mio portafoglio, i mercati finanziari. E anche di questi facciamo una bella carrellata crescente di tutti i miei investimenti più tutti quelli che sono i miei nuovi movimenti. Il portafoglio più piccolo di questa tipologia è su Money Farm e anche lo scorso mese qui è partito il mio deposito ricorrente di 500 sterline mensili. E ad ora il mio portafoglio si trova in questo stato in profitto di 758,59 sterline. Quindi bene, ma questo portafoglio bene o male segue l'andamento generale del mercato. E dato che stiamo avendo un anno clamorosamente e stranamente positivo dopo qualche scossone, chi ha investito viene ripagato. Comunque da poco ho anche fatto una recensione e visita Money Farm, quindi se foste interessati andate a darci un occhio. Poi il mio secondo portafoglio in ordine di grandezza è un portafoglio su Nutmeg, un robot advisor che ho aperto per il conto Lifetime ISA che mi permette di avere dei bonus dal governo inglese e lo approfondisco nel video della mia dichiarazione dei redditi in UK. Comunque ad ora questo portafoglio si trova in questo stato in profitto di 4300 sterline e anche questo numero rispecchia il mercato che mi premia dato che ho iniziato ad investire a marzo del 2020 in piena crisi. Poi il mio terzo portafoglio in ordine di grandezza è su Trading212 dove quando ero residente a Londra ho creato un portafoglio ISA. Qui come al solito vedete gli andamenti dei vari titoli che ho in portafoglio, Berkshire Hathaway e Westrock. Poi lo scorso mese per comodità ho liquidato tutte le piccole posizioni relative al mio link Invito a un Amico che comunque è ancora valido e trovate in descrizione. Se create con loro un portafoglio tramite il mio link regalano a me e a voi un'azione. Comunque come notate sto continuando ad accumulare due ETF, ho comprato 1000 sterline di un ETF iShares sui mercati emergenti e 1000 sterline su un ETF di X-Trackers che cerca di emulare l'S&P 500. Dato che sto accumulando mese per mese non mi preoccupa il prezzo di ingresso attuale, anzi se questi ETF dovessero scendere io sono pronto ad acquistare ulteriormente. Infine passiamo al mio portafoglio più grande in assoluto, quello su Interactive Brokers che questo mese ha superato i 90.000 dollari. Ed è diventato come da stima il mio più grande portafoglio proprio lo scorso mese dato che da quando ho cambiato residenza a Dubai Interactive è diventato il mio broker principale. E ovviamente se non l'avete ancora provato vi invito a farlo, trovate anche di questo il mio link in descrizione. Comunque qui ho un piano di accumulo su due ETF, uno che replica l'indice MCI World sui mercati sviluppati di Lixor, uno invece sui mercati emergenti di iShares, qui su entrambi sta investendo 4.000 euro al mese. Ed oltre a questi come avrete notato ho aperto due posizioni, 143 azioni di Alibaba e 810 di Huia che ho accumulato negli scorsi 4 mesi man mano che scendevano e ad ora ovviamente sono in perdita qui. Mentre se guardo solo il piano d'accumulo, nonostante lo abbia iniziato solo da 7 mesi, nel complesso è in leggero profitto. E con questo portafoglio abbiamo terminato il mercato azionario che peso attualmente sul mio intero portafoglio investito per un 51,1%, guadagnando più del 13% dallo scorso mese e scalzando il mercato cripto. Questo è motivato oltre al crollo di bitcoin anche dal fatto che non sto più aggiungendo denaro nel mercato cripto. Mentre da questa parte aggiungo ogni mese circa 12.000 euro. Detto questo e confuso il mio portafoglio vi ricordo che in questo video state vedendo solo la parte del mio capitale investito. Oltre a questa c'è e a mio parere ci deve sempre essere una parte di capitale liquido con cui cogliere occasioni, mantenere un fondo di emergenza e cosa che sto facendo continuare i piani di accumulo e ribilanciare il portafoglio. Ed oltre a tutto questo manca anche tutta la parte di investimenti alternativi e tutto ciò che rappresenta i progetti che fanno da mia fonte di reddito attivo. Ma ora in conclusione parliamo di quel che ci sta aspettando, dei miei progetti futuri per concludere sempre questo video immenso. Come avete visto da pochissimo ho iniziato un canale a tema sportivo. Io sono sempre stato patito e fin da piccolo nella mia vita ho provato decine di attività sportive. Finalmente dopo diverse riflessioni ho deciso di iniziare a raccontare questo lato di me anche qui su YouTube partendo con la mia avventura nel mondo del paddle nel tentativo di diventare competitivo per poi insomma iscrivetevi al canale e vedrete cosa succederà. Poi sto continuando ad investire tempo e denaro su Omni, la community sul denaro che ha superato le 22.000 persone e per questo sono contentissimo. Mentre parlando di qualche obiettivo futuro per il 2022 i due grandi target sono quelli di rendere la mia attività più organizzata con l'introduzione di due persone e cercare di portare il portafoglio che vi faccio vedere mensilmente almeno a un milione di dollari. Sarà impegnativo? Voi iscrivetevi al canale se non volete perdere tutte le future avventure. Come sempre riempitemi di commenti così che io possa migliorare e creare contenuti che vi possano essere sempre più utili. Andate a dare un occhio al mio Instagram se volete rimanere aggiornati quotidianamente su quello che sto combinando. Detto questo lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto ed è stato interessante e noi ci vediamo alla prossima avventura. Dal Trentino è tutto, ciao!